E' Palazzo Vecchio ad ospitare l'inaugurazione dell'86esima edizione di Pitti Uomo, alla fortezza da basso di Firenze fino al 20 di giugno. E per la prima volta, scherza Matteo Renzi presente alla cerimonia, siamo riusciti a far partecipare a Pitti un presidente del Consiglio. Un'occasione che diventa un palcoscenico per una politica di rilancio del Made in Italy, con un messaggio preciso al sistema del credito. Diciamo con forza al sistema bancario italiano, che dopo l'investimento e l'innovazione sperimentata dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e dal board della Banca Centrale Europea, non ci sono più alibi per dare credito alle imprese. Rilanciare la manifattura d'eccellenza per far ripartire l'Italia. Mentre la fortezza da basso apriva le porte a 1090 marchi espositori e a decine di migliaia di visitatori, il viceministro allo sviluppo economico Calenda ha annunciato per il prossimo anno un piano straordinario di finanziamenti del Made in Italy, che andrà in due direzioni. Di avere una struttura che si occupa di attrazione e investimenti, che oggi l'Italia è l'unico paese che non ha al mondo, non solo tra i paesi occidentali, ma al mondo. E la seconda è quella con un'attività di internazionalizzazione che riguarda sia gli eventi in Italia, sia i road show internazionali per andare a spiegare quali sono le opportunità di investimento. L'uomo della primavera-estate 2015 guarda con attenzione allo stile classico, fatto di tessuti leggeri e raffinati, ma si rinnova negli accessori, ormai determinanti nelle tendenze del lifestyle. Spazio anche allo stile urbano, che si afferma attraverso la rivisitazione dell'abbigliamento sportivo. Un'edizione speciale per Pitti, che cade in concomitanza con i 60 anni di attività del centro di Firenze per la moda italiana. Grazie a Firenze e grazie a tutto il mondo della moda che ci crede. E ora anche i politici cominciano a credere, perché la moda non è più solo un qualcosa di vanitoso, è occupazione e tanta occupazione per la nostra gente.